Buonasera a tutti, ringrazio Roberto Vosi per avermi chiamato a parlare di questo argomento che mi sta molto a cuore, cioè la fantascienza, su cui ho scritto tante cose. Stasera ho scritto un breve articolo che sintetizzo, poi mi vorrà leggerlo per intero, lo provo a pubblicarlo sulla mia rivista online, il segreto di cucinella.it, a settembre. Esistono diverse teorie scientifiche che fanno riferimento al multiverso, ed è da queste che prendono spunto le storie fantascientifiche, in genere fantastiche, che parlano di universi paralleli. Nella scienza le teorie del multiverso afferiscono alla fisica quantistica, ma non è naturalmente necessario essere scienziati per apprezzare un romanzo o un racconto ambientato in un universo parallelo. Anzi, di rado le spiegazioni scientifiche si avvengliano in tematiche così specifiche. Tanto più che stiamo parlando delle ricerche più avanzate nel campo della fisica, oggetto di accese discussioni da parte degli stessi attenti a lavori. Questo genere di letteratura si può suddividere in due grandi aree tematiche, a seconda che il mondo alternativo abbia origine o meno dal mondo in cui viviamo. Vi spiego meglio. Un universo parallelo al nostro, con gli stessi luoghi e personaggi, ma in cui gli eroi sono i cattivi e viceversa, cosa che avviene ad esempio nella serie di Star Trek. È ben diverso da un ipotetico presente in cui Hitler ha vinto la guerra. Abbiamo un esempio di universi paralleli del primo tipo nella già citata serie di Star Trek. In un episodio della serie classica, a causa di un vasto teletrasporto, il comandante Kirk, il medico McCoy e il tecnico Spott, si trovano in un universo parallelo, l'universo dello specchio, in cui l'equipaggio dell'Interprise si comporta in modo malvagio e violento. La stessa tematica viene ripresa anche in un episodio della serie Enterprise, il pregole degli anni 90 della serie classica. Un altro esempio è rappresentato da Assurdo Universo, scritto negli anni 40 dallo statunitense Frederick Brown. Si tratta tra l'arco di un curioso caso in cui la fantascienza parla di se stessa. Il protagonista, infatti, lavora in una rivista fantascientifica. A causa di una scarica elettrica si ritrova catapultato in un universo parallelo in cui prendono vita tutti gli elementi fantascientifici di cui ha letto sulla carta. Al momento della scarica elettrica, infatti, è stato messo in comunicazione con tutti gli universi possibili e, in qualche modo, il suo subcoscio ha scelto quello più attinente alla sua personalità e ai suoi pensieri al momento del contatto. Il grande Philip Dick, negli anni 60, ha pubblicato due interessanti romanzi, Le Crestimate di Barnett-Edditch e Ulrich. Nel primo viene introdotto il tema degli allucinogeni come fuga dalle realtà e porta verso altri mondi. Il Cerv Zeta annulla, infatti, lo spazio e il tempo e consente di sperimentare la vita in mondi fantastici, un po' come la spezia del ciclo di mondo. Come scrivono Fabio Giovannini e Marco Minicangeli nel loro saggio Storia dei romanzi di fantascienza, se i romanzi di Dick si possono considerare come delle tappe della definizione del concetto di realtà, allora il grammatico dibattito sull'essenza del reale si conclude proprio con Le Crestimate di Barnett-Edditch, opera che rappresenta quasi la resa dello scrittore di fronte all'inconoscibile. Dick descrive il caos dell'universo spazio-tempo come successione di allucinazioni e allo stesso tempo introduce un elemento nuovo, una vaga alternativa mistica. Il Ubbic, romanzo dalla crama molto complessa, ritorna al tema della groga. Pare che lo stesso Dick ne assumesse durante la scrittura. È quello ricorrente dell'abile confine della realtà, della vita e della morte. Il protagonista, infatti, tenuto in animazione sospesa come una sorta di semi-vita, arriva ad affermare «Io sono vivo, voi siete morti», che è una frase celeberna. Non ho trovato molti altri esempi di mondi paralleli del primo tipo della fantascienza pura. In compenso, abbondano esempi di mondi del secondo tipo. C'è anzi un filone narrativo speciale, la cosiddetta ucronia o storia alternativa. Ucronia, da greco nessun tempo, richiama non a caso il termine utopia nessun luogo. È un filone molto ricco, a metà strada castoria e fantasia. Richiede, infatti, la preparazione di uno storico che conosca bene nei dettagli il momento della svolta, quello in cui la storia ha preso una castrada rispetto a quello ufficiale, magari a causa di un evento apparentemente di poco conto. Esaurire l'argomento breve tempo è ovviamente impossibile, ma può essere interessante fare una rapida parallelità delle varie opere ucroniche, partendo dalla domanda cosa sarebbe accaduto se? Cosa sarebbe accaduto se l'impero romano non fosse mai scomparso? Una possibile risposta la troviamo nell'interessantissima trilogia di Sofia McDougall che parte dal romanzo Romanitas. Il 2004, in cui è ambientato il romanzo, sarebbe l'anno 2757 Apo e Urbe Conditas. Il mondo sarebbe più tecnologicamente avanzato rispetto al nostro, perché non ci sarebbe stato il cristianesimo e il mediaevo a frenare il progresso. Ci sarebbe ancora l'imperatore, le crocifissioni, con croci d'acciaio anziché di legno, e buona parte del mondo parlerebbe latino. Arco 6, Arco Bivio. Cosa sarebbe accaduto se la Seconda Guerra Mondiale avesse visto il nazismo vincitore? Quel triste periodo storico è di particolare fonte di ispirazione per molti scrittori cronici, vista l'importanza decisiva che ha avuto per i rapporti geopolitici attuali. A questa domanda hanno risposto tra gli altri Philip Dick in La Svastica sul sole e Robert Harris con Faterland. In entrambi i romanzi, usciti rispettivamente nel 62 e nel 92, si immagina un Hitler trionfato. Nel romanzo di Dick, il mondo, Stati Uniti compresi, viene spartito tra nazisti e giapponesi. La storia si svolge negli anni 60, come nel romanzo di Harris, ed è notevole anche per la presenza di un metalibro all'interno della narrazione, un'opera in cui Hitler ha perso la guerra, che risulta quindi fantapolitica nel mondo alternativo. I due piani narrativi si corrono paralleli e complementari per tutto il romanzo. Breve parentesi a questo punto su un'altra opera fantascientifica di Norman Spirard, autore dei statunitensi famoso negli anni 60 e 70. L'opera in questione è Il Signore della Svastica, del 72. L'autore immagina un mondo cronico in cui Hitler, anziché il feroce dittatore che conosciamo, è diventato un autore di fantascienza, pubblicando un libro, ritorno al tema del metalibro, che ripropone i suoi deliri razzisti in chiave fantascientifica, con i mutanti al posto degli ebrei e umani sani al posto degli ariani. Tornando al romanzo di Harris, di cui è stata fatta una versione cinematografica nel 94, la sua storia alternativa propone una sorta di guerra fredda tra il Terzo Reich, vittorioso sulla Russia, e gli Stati Uniti, negli anni 60 di quel mondo. In questa linea temporale gli ebrei sono stati annientati e i primi dei campi di sterminio nascosti alla popolazione, distratta anche dalla scoperta dei campi di prigionia russi. La verità comunque verrà a gala alla fine del romanzo. Rimanendo sempre sulla Seconda Guerra Mondiale, non possiamo che citare il ciclo dell'invasione dello statunitense Harry Tartelwood, ciclo sviluppatosi negli anni 90 in quattro romanzi. L'idea originalissima sta nel presentare un'invasione aliena mentre le varie potenze mondiali si scontrano nel loro sanguinosissimo conflitto. Ovviamente la storia ne risulterà stravolta, con sviluppi interessantissimi. Abbandoniamo il tema della Seconda Guerra Mondiale, su cui ci sarebbe comunque molto altro da dire, per esaminare anche interessanti sedi della storia. Cosa sarebbe accaduto se Garibaldi avesse combattuto a Gettysburg alla guida dell'esercito nordista durante la guerra civile americana? Alla domanda risponde Pierfrancesco Prosperi nel suo romanzo del 93 Garibaldi a Gettysburg. Intervento Garibaldino sarebbe paradossalmente disastroso e porterebbe alla vittoria dei sudistri e alla mancata unità italiana, con un Veneto in mani austriache che è ancora alla fine del XX secolo. Il protagonista, Andrea Venier, insegnante e grande ammiratore dell'eroe dei due mondi, di ritorno da un viaggio in America trova spiegabilmente la sua Venezia trasformata. Si parla tedesco e si usa lo scendino come monica. È uno dei casi in cui i mondi ocronici si incrociano e in cui l'eroe deve ripristinare il corretto corso degli eventi. Cosa sarebbe accaduto se il computer fosse stato inventato nell'Ottocento? La risposta a questa domanda addirittura ha dato vita a un sottogenio della fantascienza, lo steam punk, derivato in parte dal cyberpunk. L'opera più famosa è La macchina della realtà, di William Gibson e Bruce Sterling. E cosa sarebbe accaduto se Napoleone avesse vinto la campagna russa, se il presidente Kennedy fosse sopravvissuto all'attentato, se l'Italia fosse diventata una repubblica all'inizio del Novecento, se Lorenzo il Magnifico fosse vissuto più a lungo, se l'attentato a Sarajevo ad anni dell'Arcitud Francesco Ferdinando non fosse mai avvenuto, a questi ad archi interrogativi impossibili hanno tentato di rispondere anche tanti autori, sfornando utopie o distopie, tematiche spettamente imparentate all'ucronia, sempre e comunque interessanti da leggere. Ci si potrebbe interessare e interrogare sull'utilità della storia fatta con i sé. Benedetto Croce non espresse un giudizio positivo sull'argomento, ritenendolo un'oziosa perdita di tempo. Anche studiosi non sono d'accordo con lui. Al di là del pretesto narrativo, proprio gli scrittori, la storia proprio degli scrittori, la storia controfattuale, come è definita in ambito accademico, è diventata una branca della ricerca storica, molto rispettata soprattutto tra gli studiosi anglo-americani. Con questo chiudo il mio intervento che vuole essere anche un invito alla lettura e alla scoperta di tanti autori celebermi del genere fantascientifico e di altri meno noti su una tematica che ha sempre affascinato l'uomo e lo scrittore. Grazie a voi.